Grazie all'accordo con le parti sociali, del sindacato, dell'associazione dei costruttori edili, abbiamo siglato un importante protocollo che consentirà a 3.000 persone che fuggono da situazioni di crisi internazionali e dalla guerra di accedere a percorsi di formazione e di accedere al mercato del lavoro nel comparto dell'edilizia. Si tratta di un primo passo che io credo vada nella giusta direzione per realizzare l'integrazione e per consentire contemporaneamente di far fronte ai vuoti di mano d'opera che si stanno determinando in diverse filiere. Credo che sia davvero un momento significativo, un modello che può anche ispirare interventi in altri settori e può anche replicarsi ulteriormente in questo.